JCI, ti senti buono dire che io sono libero per un'organizzazione, un po' sicuro che non è parte di una attitudine e una attitudine di nuovo. E questo è quello che non è parte di noi, naturalmente, perché io sono entrati di edad che mi avevo detto, 1840. Se hai un po' interessato, hai un cammino che ti senti a registrare, come ti senti? Sì, principalmente lo bo por subirebbe pagina di Facebook, per esempio di JCI YUB, che ti parla per Young United Bonaire. Bo por subirebbe pagina, e bo por subirebbe pagina di JCI Dodge Caribbean, e in anno bo por tomo contatto, tanto gustosamente non se lo dirigibbo nella persona e il contatto necessario per un buon messo nel movimento di JCI, in anno Bonaire. Wow, è un certo punto, e quando ho detto, mi danno paradiso di un buon messo nel interviews di vento con nosa comunitado, con di quanti senti di ранica di JCIunko dare formate leader di nuovo nel Bonaire. Ho detto un esempio di un bene che va con la sala di JCI, che ha ben saidante di nochmal leader? di nostra comunità? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.